Subito una super sfida per l'Udinese alla Dacia Arena, la prima giornata di campionato metterà di fronte i bianconeri di Udine con la Juventus, dunque alla Dacia Arena il 22 di agosto Udinese Juventus. I contagi tornano a salire anche nella nostra regione, ma i vaccini funzionano ed evitano ospedalizzazioni e decessi. Ne parliamo con il vice governatore Riccardi, intanto Federica spinge per modificare i parametri di valutazione dei rischi per le regioni. Dopo la Francia, anche l'Italia potrebbe adottare il Green Covid Pass come strumento obbligatorio per andare al bar e al ristorante, oltre che per l'accesso a molti altri servizi. In diretta da Udine, cosa pensano gli esercenti? La Guardia di Finanza di Trieste ha partecipato ad un'operazione che ha interessato tutto il territorio nazionale per una maxifrode fiscale sulla vendita di carburante, sequestrati 25 milioni di euro. La didattica a distanza ha abbassato il livello di apprendimento e istruzione degli studenti del Fuli Venezia Giulia, lo dicono i risultati delle prove invalsi svolte nel periodo della pandemia. Buonasera, edizione in diretta delle 19 del nostro telegiornale, lo avete visto dai titoli, sarà la Juventus la prima avversaria dell'Udinese nel campionato 2021-2022. È in corso la compilazione dei calendari che, come sapete, ha come grande novità da questa stagione una compilazione non più simmetrica, un calendario dunque asimmetrico. Non c'è corrispondenza tra la prima di andata, la prima di ritorno e così via le altre giornate, il giorno di andata e di ritorno. Siamo in grado di mostrarvi anche la prima giornata di ritorno per dimostrarvi quello che vi ho appena detto. La prima giornata, il 22 agosto, vedrà in campo l'Udinese contro la Juventus, mentre la ventesima giornata, che sarà il giorno dell'Epifania, la prima di ritorno, vedrà l'Udinese in trasferta contro la Fiorentina. Dunque per la prima volta nel calcio italiano il calendario sarà asimmetrico. Le altre partite del primo turno le vedete Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Ellas-Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta. Approfondiremo il tema dei calendari sia in corso di telegiornale con un collegamento con Jacopo Romeo, avremo anche le prime dichiarazioni, le impressioni del mister Gotti dopo le giornate che avremo a disposizione entro il termine del telegiornale. Poi saremo più completi a partire dalle 21 questa sera, gli speciali del Tg dedicati interamente al calcio, ai calendari di Serie A e dunque all'analisi del cammino che l'Udinese dovrà affrontare nel prossimo torneo. Ma adesso passiamo ai dati Covid perché oggi si sono registrati dei picchi e degli innalzamenti di alcuni parametri, in particolare quello dei contagi. Cominciamo con il dato Italia, poi faremo un approfondimento più particolareggiato sulla nostra regione. In Italia i contagi hanno raggiunto 2153 nuovi positivi. Il numero dei decessi rimane basso in linea con i decessi registrati nei giorni scorsi a 23, l'incremento dei nuovi guariti è di 1.079, leggermente superiore quindi all'incremento che come potete vedere ha la differenza che c'è tra il parametro dei nuovi contagi e guariti che è di 1.051, che porta i positivi attuali in Italia a 41.700. Per un dato che inizia a preoccupare e a spaventare è quello dei contagi che sale, non si arrivava a questo dato dei contagi ormai da diversi giorni, diverse settimane. C'è un dato invece importante che va avanti che è quello dei vaccini. Alle 17.32 di oggi in Italia sono state superate le 59 milioni di dosi somministrate e questo equivalgono al superamento della soglia dei 25 milioni di italiani completamente vaccinati, pari al 46,30% della popolazione over 12 che ha ricevuto la doppia dose o la singola dose Johnson & Johnson completando il ciclo vaccinare. Per quanto riguarda le regioni sono quasi tutte al di sopra del 90% dell'utilizzo delle dosi, il Fulvio Venezia Giulia al 91,3 con quasi 1.200.000 dosi somministrate. Andiamo a vedere il Veneto, nel Veneto abbiamo questo dato 4.759.000 e rotti dosi somministrate, anche qui 91,5 quindi ben al di sopra del 90%, la media nazionale è del 92,7. Dunque si sta correndo in Italia con i vaccini seppur ci sono dei rallentamenti, delle sacche di resistenza rappresentate da quelle fasce di età che sono ancora indietro, in genere in tutta Italia ma anche nella nostra regione. Ed eccoli i dati del Fulvio Venezia Giulia, vi dicevo di un picco di contagi che ha toccato oggi 42 nuovi positivi più 27 rispetto a ieri. Una persona rimane ricoverata in terapia intensiva e questo è un dato sicuramente importante che tra un po' approfondiremo con altri grafici che abbiamo preparato. 5 le persone ricoverate negli altri reparti, 224 le persone in isolamento, i tamponi effettuati 5.725, non si registrano decessi, 0,73 è la percentuale che sta salendo giorno dopo giorno nel rapporto tra i tamponi effettuati e i contagi riscontrati. E allora andiamo a vedere dei grafici che abbiamo preparato che si riferiscono all'ultimo mese, quindi dal 14 di giugno al 14 di luglio, quindi ad oggi. Il primo grafico ci mostra l'andamento dei contagi, come vedete al di là dei dati molto bassi che sono riconducibili al fine settimana, alla domenica, dove nel nostro paese inspiegabilmente si fa meno tracciamento, si fanno meno tamponi. Per il resto, li vedete, ci sono state delle oscillazioni e una linea abbastanza mossa, quella che parte dal 14.6 e arriva al 14.7, con questo picco, questa punta di 42, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Ma intanto questo è il grafico dell'ultimo mese di contagi, di nuovi positivi nella nostra regione. A questa linea abbiamo voluto sovrapporre anche quella di altri dati per mostrarvi come la vaccinazione stia influenzando in maniera positiva il dato delle ospedalizzazioni, e quindi abbiamo scelto quello della terapia intensiva, che è il livello più grave, e il dato dei decessi, che è quello che è più ciratrista, cioè delle persone che muoiono per le conseguenze del Covid-19. Guardate qui, in un mese, mentre la linea dei contagi ha fatto su e giù, settimana per settimana, toccando spesso la doppia cifra, e arrivando oggi a 42, con quei numeri molto bassi, che però si riferiscono ad un campionamento, ad un numero di tamponi molto molto basso, per il resto, dunque, come vedete, è una linea frastagliata, quella dei decessi e della terapia intensiva è una linea, entrambe le linee sono quasi rette e per fortuna con numeri molto bassi, dove compaiono, per esempio, in terapia intensiva parecchi zero, e così come nei decessi, tanti zero a partire già dalla fine del mese di giugno. Dunque, la vaccinazione si può dire che sta funzionando anche nella nostra regione, se i dati ospedalieri si mantengono nella norma e non ci sono livelli di allarme, vuol dire che la vaccinazione, pur essendo in ritardo la nostra regione su alcune fasce, alcune categorie, come quella dei medici e dei operatori sanitari in genere, è l'unico strumento al momento disponibile per fronteggiare guai e sedi di fronte ad un innalzamento dei contagi dovuti alla variante Delta. Ne abbiamo parlato con Riccardo Riccardi, vice governatore, assessore alla salute della nostra regione, sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato poco fa. L'andamento del contagio, come avevamo ipotizzato, sapevamo che poteva rialzarsi. Si rialza per effetto delle mutazioni, i numeri non sono ovviamente così rilevanti come abbiamo conosciuto, però è un dato di rialzo, è un indicatore importante. L'RDT, che è il predittivo dell'RT, ci fa vedere come stiamo crescendo oltre uno. Quindi questo è un andamento molto chiaro. Di converso, però, rispetto all'andamento complessivo della pandemia, questo non sta producendo quegli effetti che riguardano le strutture sanitarie, in particolare le strutture ospedaliere. Quindi è evidente che qualsiasi misura che tu possa considerare, deve essere una misura che tu consideri in relazione a quello che è l'impatto della struttura ospedaliera. L'effetto dell'impatto ospedaliero con dati così ridotti è sicuramente conseguenza anche della campagna vaccinale. Quindi noi dobbiamo proseguire nella campagna vaccinale, dobbiamo distinguere nella campagna vaccinale coloro che hanno scelto di vaccinarsi e dividere tra quelli che non si sono vaccinati, quelli che non si vaccineranno mai, quelli che non possono vaccinarsi per le proprie condizioni di salute e quelli che sono ancora incerti nella vaccinazione, secondo me anche a causa di un dibattito mediatico stucchevole che ha visto presunti esperti confrontarsi l'uno contro l'altro. Chiaro che noi dobbiamo recuperare terreno nella campagna vaccinale che ci vede purtroppo alla coda delle classifiche di adesione per quanto riguarda i sanitari e fortunatamente in testa a quelle che sono invece il personale scolastico. Quindi anche qui noi ospichiamo di poter convincere persone a fare la cosa che è indispensabile fare, cioè se vogliamo essere tutti più sicuri. Le direzioni generali delle aziende sanitarie stanno inviando alla fascia over 60, non ancora vaccinata, una comunicazione che va in questa direzione. E quindi davanti ad una condizione nella quale la campagna vaccinale non raggiunge soglie definibili da immunità di gregge, è evidente che noi non possiamo pensare che delle limitazioni nella mobilità, nel comportamento delle persone vedano sostanzialmente condizioni pari tra chi ha scelto di vaccinarsi e chi ha scelto di non vaccinarsi. Queste le parole di Riccardo Riccardi che ha chiuso anche con un discorso che va nella direzione del Green Covid Pass, cioè chi si vaccina ma che riesce a produrre anche dei dati che permettano di ottenere il Green Covid Pass è giusto che non subisca delle restrizioni, cioè il problema di dover disporre poi un'obbligatorietà o meno a questo strumento, vedremo l'Italia come si comporterà, la Francia ha iniziato su questa strada, vedremo cosa succederà, ma c'è la possibilità che anche l'Italia possa seguire l'esempio di Macron, ne parleremo tra poco perché ci collegheremo in diretta con Matteo Macuglia da Via Manin dove chiederemo agli esercenti, ad un esercente che cosa rappresentante dei confesercenti per la sua categoria, che cosa ne pensano. Ma adesso rimaniamo sul campo dell'analisi dei dati e di quello che sta avvenendo con i contagi che salgono, ma i livelli di occupazione ospedalieri che rimangono comunque stabili sul basso e così anche il numero dei decessi che anche oggi è zero. Sentiamo il segretario regionale del Friuli Venezia Giulia Cristiano Sciaruli che abbiamo intervistato poco fa, sentiamo anche il parere dunque dell'opposizione. Venendo al tema invece coronavirus, i contagi sono stabili però sta facendo largo la variante Delta, stiamo facendo bene in regione? Io credo intanto che dovremmo prendere atto che la variante Delta è preoccupante senza allarmismi, ma intanto dobbiamo in questa regione tornare a dare degli esempi positivi. Ciò che è accaduto in questa settimana con le esternazioni del Tor del Monte non ha assolutamente aiutato a dare fiducia ai cittadini, alle famiglie e in questo momento la mia preoccupazione, credo dovrebbe essere anche quella della Giunta e soprattutto prepararci per arrivare pronti a settembre per la riapertura delle scuole. C'è il tema del Green Pass, io penso che debba essere data sicurezza e anche chiarezza a chi ha fatto il ciclo vaccinale sia per entrare nei locali sia per avere dei determinati servizi e alle persone, soprattutto in questa regione e soprattutto, mi dispiace dirlo, nella fascia over 60 che ancora non si sono vaccinate, io penso che le istituzioni tutte debbano dire che il vaccino oggi è l'unico modo per ripartire e per riaprire. Ecco, sul fronte, sempre restando sul Green Pass, ovviamente il discorso non è soltanto dal lato dell'utente che riceve, ma anche eventualmente del ristoratore, del bar che si deve attrezzare per gestire questo Green Pass, perché non è solo questione di chiederlo, è questione di leggere i QR, i QR code, è questione di gestire anche il discorso degli anziani, che ovviamente sono meno tecnologici, abbiamo delle risposte su questo? Allora, io penso che ormai l'utilizzo del QR code è abbastanza diffuso e consolidato da parte di tutti, ma il tema principale secondo me è dare un messaggio, ancor più dell'obbligo di esibire, dare un messaggio chiaro è che chi si vaccina avrà la sicurezza di poter partecipare ai concerti piuttosto che ad andare in una discoteca finalmente, ma dobbiamo in qualche maniera dire a tutti che la vaccinazione è fondamentale. A proposito di De Monte, nei prossimi giorni verrà depositata una denuncia a querela ad Udine per avviare le indagini informatiche e rintracciare chi ha eseguito l'accesso al fascicolo sanitario di Amato De Monte, a capo della Sores del Friuli Venezia Giulia. L'ha annunciato la sua legale Giorgia Tripoli dopo che si era diffusa la notizia, secondo la quale il medico si sarebbe vaccinato con una dose del cinese Sinopharm, autorizzato dall'OMS ma non dall'EMA e dunque non riconosciuto in Italia. Tra le critiche sollevate dal caso c'erano state anche quelle del Presidente dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli e dell'ex Ministra della Salute Beatrice Lorenzin. Tripoli, come si legge nella nota stampa, ricorda che per accedere al fascicolo sanitario è necessario il consenso del titolare dei dati con la consultazione che avviene soltanto attraverso accesso con firma digitale da parte di un soggetto autorizzato. Credo che non farebbe piacere a nessuno sapere che chiunque può andare a sbirciare se siamo malati oppure sani, conclude, se prendiamo farmaci, se abbiamo avuto problemi di salute più o meno intimi. Oggi è toccato al dottor De Monte, domani può toccare a un politico, a un giudice oppure a un funzionario e aggiungo io anche a un normale cittadino, non necessariamente appartenente alle categorie elencate dall'avvocato Tripoli. Adesso invece parliamo di Green Covid Pass, anzi di parametri di valutazione prima, perché Massimiliano Federiga insiste sulla modifica dei parametri di valutazione del rischio delle regioni perché ha dichiarato chiudere una regione o metterla in difficoltà perché magari ha un po' di contagi alti ma gli ospedali sono vuoti, penso sia controproducente anche per il messaggio che stiamo lanciando ai cittadini, ovvero di partecipare alla campagna vaccinale. Dobbiamo tutti metterci d'accordo sul fatto che il problema sono le ospedalizzazioni non solo per i malati Covid ma per tutte le persone che non trovano risposte perché gli ospedali sono saturi. E allora andiamo invece a parlare di Green Covid Pass, ancora con le dichiarazioni di Massimiliano Federiga che dice che l'apertura alla possibilità di sfruttare il Green Covid Pass come deciso da Macron può essere utile se supportata da atti concreti e coerenti sia in regione sia in conferenza delle regioni. Questo lo hanno detto in una nota i consiglieri regionali dei cittadini Tiziano Centis e Simona Liguori dopo le dichiarazioni di Massimiliano Federiga che apre a questo strumento e che aveva aperto la possibilità di utilizzare questo strumento anche nella nostra regione ma in generale in Italia perché poi deve partire dal governo centrale questa iniziativa. L'impennata delle vaccinazioni in Francia dopo quella scelta ci dà un segnale rilevante. Infatti dopo le dichiarazioni di Macron nel giro di poco tempo, in un lasso di tempo davvero molto breve, sono arrivate un milione di prenotazioni, di richieste per effettuare il vaccino. Ma di Green Covid Pass vogliamo parlare con gli esercenti di Udine per capire che cosa pensano di questo strumento e che potrebbe entrare a far parte del quotidiano della gestione delle loro attività. Ci colleghiamo con Matteo Macuglia da Via Manin. Matteo. Francesco ben trovato, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo presso la vineria alla botte di Via Manin per parlare proprio del Covid Pass. Siamo con Mattia Viviani che è il contitolare di questo esercizio commerciale. Cosa cambierebbe per voi se oggi cominciaste ad applicare questa misura del Green Covid Pass? Beh, non cambierebbe niente nel senso che ci adegueremo come ci siamo sempre adeguati con le norme, con le ultime norme che sono state imposte e mi adeguerò anche questo anche se non sono tanto favorevole. Però per continuare a lavorare farei anche questo, non c'è problema. Certo, voi vi adeguate, però quali sarebbero le difficoltà diciamo per voi esercenti? Eh boh, ci sarebbero delle difficoltà per tutto quello che riguarda i clienti, come farli entrare, una perdita un po' di tempo perché alla fine comunque necessiti controllare con il pass che ci sarà. Dunque sarà anche questo, però come ho detto negli ultimi due anni sono successe tante cose e ci adegueremo anche a questa cosa qua, non è un problema alla fine. Ecco, ad esempio il Green Covid Pass era già stato applicato per i ristoratori e i baristi nella provincia di Bolzano e una delle difficoltà che era emersa immediatamente era quella degli anziani, no? Di come gli anziani ad esempio si rapportano a queste norme che richiedono un minimo di approccio alla tecnologia. Eh questo potrebbe essere un problema, potrebbe essere un problema perché, buon, si sa, gli anziani magari sulla tecnologia sono un po', sulla tecnologia di adesso sono un po' indietro, però spero che si trova, si risolva anche questo problema anche per loro in qualche maniera. La perdita di tempo è la cosa un po' più stressante alla fine, penso. Ecco, voi siete parte anche di Confesercenti, la posizione dell'associazione qual è su questo tema? Ma, ultimamente non li ho sentiti, mi confronterò anche con loro, visto che ci confrontiamo per diverse cose, ma penso, se non sbaglio, penso che anche loro, l'importante è continuare a lavorare, anche perché abbiamo avuto gli ultimi periodi dei tempi morti e l'importante è continuare ad andare avanti, trovare il modo di lavorare. A me interessa solo quello, devo essere sincero. Ecco, Francesco, quindi va bene il Covid Pass, purché si continui a lavorare, perché adesso è proprio l'orario dell'aperitivo e il locale alle nostre spalle è assolutamente pieno di persone che stanno bevendo un buon bicchiere di vino e con questo ti restituisco la linea e ringrazio Matteo Riviani per l'intervento. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie Matteo. Un messaggio comunque positivo da parte di un esercente che, pur elencando quelle che sarebbero le difficoltà, non ha esitato a dire ci adegueremo e faremo quel che bisogna fare. Questo è molto importante per garantire la sicurezza e la salute pubblica di tutti. Continuiamo il nostro telegiornale parlando adesso dell'operazione della Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale che ha coinvolto anche gli agenti della GDF di Trieste, una maxifrode fiscale sui carburanti che ha portato ad un sequestro di beni per 25 milioni di euro. Francesca Santoro. Non versavano le imposte e riuscivano a vendere carburanti su tutto il territorio nazionale a prezzi inferiori a quelli di costo e quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Trieste in collaborazione con i colleghi di Frosinone e di Napoli. I finanzieri dei nuclei di polizia economico-finanziaria hanno ricostruito un complesso meccanismo societario per evadere l'IVA e piazzare così carburante sul mercato a prezzi estremamente bassi. Sono state individuate dai finanzieri decine di società coinvolte che poi sparivano senza pagare i debiti fiscali accumulati. Le fiamme gialle hanno sequestrato beni per circa 26 milioni di euro, ovvero la disponibilità finanziaria di società con sede legale appunto nelle province di Frosinone e Napoli e dei loro amministratori, questi ultimi accusati di una maxievasione fiscale. Si tratta di noti meccanismi di frode che prevedono l'emissione e l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti attraverso società cosiddette cartiere che si interpongono nella filiera commerciale come soggetti in realtà non aventi una benché minima operatività. Interponendosi quindi nella filiera riescono a frodare il fisco attraverso il mancato pagamento dell'IVA che sarebbe dovuta nel caso appunto di queste operazioni commerciali. Sono aumentate negli ultimi tempi le frodi legate al mondo dei carburanti? Le attività di servizio svolte sia in territorio regionale ma anche su tutto il territorio nazionale mostrano un incremento di questa tipologia di fenomeno criminale. La Guardia di Finanza con le sue proiezioni investigative riesce a contrastare il fenomeno anche grazie a mirate attività di verifica. Quindi è una grande operazione davvero su tutto il territorio nazionale che ha bloccato una frode fiscale imponente e ha portato a sequestro di 25 milioni di euro. Adesso proseguiamo con la cronaca, le flash news a cura di Matteo Macuglia. Ha perso la vita a soli 22 anni il giovane udinese Davide Scomparin, residente nella zona di Via del Bon assieme alla madre. Il ragazzo si trovava in casa quando è stato colto da un malore che si è rivelato fatale. Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di ieri. Inutili i soccorsi. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno fermato due maggiorenni pakistani senza documenti presso la stazione di Mortegliano lungo la regionale 353. A Udine gli uomini della radiomobile hanno ritracciato due cittadini bengalesi minorenni e due maggiorenni in viale 23 marzo. Altri sei cittadini migranti sono stati rintracciati in strada a Villanova del Giugio e a San Giovanni a Natisone. Una donna di 48 anni di grado è rimasta ferita questa mattina a seguito di un incidente accaduto poco prima delle otto in località San Lorenzo. Perso il controllo della sua Toyota Tagliari si è andata a finire in un fossato dove la vettura si è ribaltata. La 48enne è riuscita a spaccare il lunotto posteriore mettendosi in salvo. All'arrivo dei soccorsi è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone per accertamenti. Un 66enne di Manzano è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nello spazio dell'ecopeazzola del suo paese dove si era recato per conferire alcuni rifiuti. La causa della morte sembra sia un malore fatale. A dare l'allarme i parenti che non l'hanno visto tornare a casa. Inutili purtroppo i soccorsi. I carabinieri del NASA hanno ispezionato 15 strutture e centri incaricati dell'erogazione dei servizi di salute mentale in regione e hanno accertato irregolarità in 4 di questi. È stato denunciato il coordinatore infermieristico del centro di salute mentale del comune di Cividale poiché al lato del controllo della struttura sono state rinvenute e sequestrate 11 confezioni di farmaci scaduti. Bocciata la didattica a distanza i test invalsi eseguiti dai nostri giovani, i nostri studenti nelle scuole italiane durante il periodo della pandemia hanno evidenziato un calo di apprendimento da parte dei ragazzi appunto. Tutto questo è dovuto molto probabilmente alla didattica a distanza. È accaduto anche nella nostra regione. Ce ne parla Valentina Bearsi. La didattica a distanza ha drasticamente peggiorato l'apprendimento e le performance degli studenti italiani, in particolare per le medie e le superiori. Lo rileva il rapporto sui dati invalsi presentato questa mattina a Roma dal ministro per l'istruzione Patrizio Bianchi. Il rapporto prende in esame i risultati scolastici dei ragazzi comparandoli al 2019 e i risultati non sono positivi. Il confronto degli esiti della scuola elementare del 2019 e del 2021 restituisce un quadro sostanzialmente stabile. La scuola primaria è riuscita quindi ad affrontare le difficoltà della pandemia garantendo risultati pressoché uguali a quelli del 2019. La DA della pandemia invece hanno fatto danni enormi sull'apprendimento dei ragazzi e delle secondarie. Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano. Il dato sale al 45% in matematica. Alle superiori il dato aumenta rispettivamente al 44% e al 51% con un più 9%. I problemi principali riguardano il sud e i ragazzi che provengono da famiglie in difficoltà. In molte regioni del mezzogiorno oltre la metà degli studenti delle medie non raggiunge la soglia minima di competenze in italiano. Campania e Calabria al 64%, Sardegna 53%, Abruzzo 50%. In Campania poi il 73% degli studenti è sotto il livello minimo di competenza in matematica. Dati simili è in Sicilia e in Puglia. Il Friuli Venezia Giulia ha mantenuto gli standard precedenti sia per le medie che per le superiori. Nella media per l'insegnamento di italiano è invece superiore al resto del paese per l'apprendimento della matematica rispetto al 2018 insieme alla provincia di Trento, questo per le scuole medie. Mentre invece è nella media italiana per le scuole superiori. Dati che spaventano soprattutto a livello nazionale dove il 23% degli studenti, quasi uno su quattro, o ha abbandonato la scuola o l'ha terminata senza acquisire competenze di base minime. Giornata di concorso in regione per tanti candidati che si sono presentati allo stadio Rocco per le prove. Sentiamo le interviste raccolte da Francesca Santoro. Per questo concorso, per uno dei 15 posti in regione, è il primo concorso in cui partecipa? No, non è il primo, però questo sì per me è importante, quindi c'è un po' di emozione come penso per tutti gli altri. Lei ha già un lavoro? Sì, sì, sono già dipendente, sono comunque dipendente regionale, provo a fare lo scarto di categoria. Lei ha già un lavoro, tenta questo concorso? Lavoro, lavoro, sì, sì, sì. Ha speranza di riuscire quindi ad entrare in regione? Sì, sì, assolutamente. Si è preparata per questo esame? Sì, sì. Questo concorso è importante, siete emozionate? Eh, un pochino, sì, come tutti i concorsi, un po' di emozione c'è sempre. Lei ha già un lavoro? Sì, sì, per fortuna sì. Posso chiedere da dove venite? Da Gorizia. Lei ha già un lavoro, punta ad entrare in regione? Beh, sì, è un lavoro che chiaramente si punta sempre a migliorare, no? Anche lei grande emozione? Abbastanza, sì. Da dove proviene? Sempre da Gorizia. Anche lei ha già un lavoro? Un lavoro, sì. Proviamo, è la prima volta, quindi ho detto proviamo. E bocca al lupo a tutti i candidati. Andiamo adesso da Jacopo Romeo perché bisogna fare un grosso e un bocca al lupo all'Udinese che nelle prime cinque giornate dovrà vedersela con tre grandi. Jacopo si parte con la Juventus, ma ci sono anche Napoli e Roma nelle prime cinque. Dicci un po' che cosa sta avvenendo fuori dai calendari, tu che li hai seguiti finora ed è ancora in corso la compilazione. Eh sì, è così. Buonasera a te Francesco, buonasera ai nostri telespettatori. Una compilazione, che dobbiamo dirlo, va molto molto a rilento. Per adesso sono state svelate solo le prime sette giornate, più la prima di ritorno. Sappiamo tutti che c'è la grande novità del calendario asimmetrico, come in Premier, come in Liga e in Ligan da questa stagione. Cioè il giorno di ritorno non corrisponderà nell'ordine delle gare a quello di andata. E come dicevi tu, l'impatto è quello da incubo. È appena finito l'allenamento e rientrando, ho incrociato i giocatori che rientravano, che mi hanno chiesto un po' con chi dobbiamo giocare. La prima reazione è stata, mamma mia, perché l'Udinese ospita la Juventus alla prima giornata, il 22 di agosto. Poi, come è accaduto anche due stagioni orsono, gioca le due prime gare del campionato, entrambe alla Dacia Arena, perché dopo la Juve sarà la volta della sfida, la matricola, la neopromossa Venezia. Poi la sosta, settembre di nazionali, alla terza si va alla Spezia, alla quarta, la seconda delle tre big che affronteremo nelle prime cinque, perché alla Dacia Arena arriverà il Napoli. La settimana successiva si va in trasferta contro la Roma di José Mourinho, quindi veramente un vero e proprio tour de force all'inizio, però inframmezzato, diciamo così, parzialmente bilanciato dalle sfide sulla carta ampiamente alla portata contro Venezia e Spezia. Alla sesta ancora la Dacia Arena contro la Fiorentina, poi trasferta la settima giornata a Genova contro la Sampdoria e sarà quella l'ultima giornata prima della seconda sosta nazionale di ottobre. Sappiamo però anche dove andrà a giocare l'Udinese, nella prima del giorno di ritorno, e lo farà proprio contro la Fiorentina, che all'andata invece arriverà alla sesta. Dunque la prima di ritorno in calendario all'Epifania, quindi al 6 gennaio la ripresa dopo la sosta invernale, la sosta natalizia più che altro dal 22 dicembre al 6 gennaio, ci sarà la visita a Firenze in un campo che è stregato da 13-14 anni di sconfitte consecutive. Speriamo che l'Epifania porti bene per sfatare anche questo tabù. E commenteremo anche l'impatto per cuori forti sul prossimo campionato dell'Udinese con la sfida alla Juventus, con mister Luca Gotti appena finito allenamento, lo sentiremo e poi naturalmente Francesco lo riproporremo in diretta. della tua trasmissione, lo speciale proprio calendario che ci sarà in diretta su Dinese TV alle 21, ascolteremo i nostri microfoni in esclusiva anche quelle che saranno i commenti di mister Gotti alla compilazione del calendario. A te. Grazie Jacopo, dunque nelle prime cinque partite tre grandi da affrontare, nelle prime cinque partite però ne avremo tre alla Dacia Arena. Sono tutti i temi che affronteremo questa sera a partire dalle 21, vi mostro quelli che sono i programmi della prima serata alle 20.30 al Tg Veneto, alle 21 gli speciali del Tg speciale interamente dedicato ai calendari che sono in corso di compilazione per il campionato 2021-2022, e poi ancora al Tg alle 22.30 a chiudere la nostra serata che poi prosegue naturalmente con altri programmi. Questi sono i programmi clou che vi invitiamo a seguire. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con Udinese TV, il Tg in diretta torna alle 22.30 ma vi aspetto alle 21 con gli speciali del Tg calendari 2021-2022. Grazie a tutti.